Siamo pronti con l'edizione del nostro giornale, vediamo subito la sigla e i titoli. Il commissario ad acta Roberto Chiudo comunica di aver appreso dall'Agenas che la sanità calabrese e per la sanità calabrese arriveranno 29 milioni di euro come premio per essere riusciti a conseguire gli obiettivi del PNRR per l'assistenza domiciliare. Il Comitato Sanità il 19 marzo annuncia che continuerà a vigilare sull'ospedale di La Mezzia Terme con particolare attenzione ai reparti di psichiatria e alle strutture semplici che non sono presenti nel nuovo DCA. Anche ad Acre si scende in piazza per difendere il famoso comio cittadino. Sono stati consegnati 18 nuovi mezzi in dotazione alla protezione civile che verranno utilizzati per la campagna antigenza che partirà tra poco. Santo Biondo lascia la segreteria regionale della UIL, chiamato a Roma dal nazionale dove occuperà un ruolo centrale nella segreteria di bombardieri. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi, per averci preferito. Questa è l'edizione del nostro giornale, la prima edizione, quella del pomeriggio, che dobbiamo aprire necessariamente con il pacchetto di servizi che riguarda la sanità perché ci sono le buone notizie, ma ci sono anche le proteste. La prima arriva da Catanzaro perché stamattina il commissario ad acta per la sanità calabrese, il presidente della regione Roberto Chiuto, ha annunciato a tutti che arriveranno 30 milioni, 29 milioni per l'assistenza domicidiale. Un bel passo in avanti, ha preso questa notizia dall'Agenas che ha visto sostanzialmente il lavoro fatto dalla regione per quanto riguarda il PNRR. Anna Franchino. Convocato i giornalisti al decimo piano della cittadella regionale, il presidente Roberto Chiuto per dare una bella notizia che riguarda la sanità alle nostre latitudini. C'è stato comunicato da Agenas e quindi dalla struttura del governo che si occupa di fare il monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR è che la regione Calabria, la sanità della Calabria avrà 29 milioni e 600 mila euro, quindi 29 milioni in più in quanto la Calabria è riuscita a conseguire gli obiettivi fissati dal PNRR per l'assistenza domiciliare. Risorse che ripagano il lavoro svolto in questi ultimi anni. Abbiamo dimostrato invece che comunicando bene i flussi che in Calabria il governo della sanità sta producendo alcuni risultati che neanche i ministeri affiancanti si aspettavano. Questo grazie all'azione svolta a tutti i commissari e i direttori generali delle aziende sanitarie che ringrazio molto per il loro contributo e grazie al coordinamento di aziende azienda zero. L'incontro riunita l'intera struttura commissariale del comparto sanitario con il commissario straordinario di azienda zero Gandolfo Miserendino e i subcommissari Ernesto Esposito e io le Fantozzi. Un traguardo non scontato ma ancora resta moltissimo da fare. Questa è la dimostrazione che azienda zero, le aziende sanitarie, il dipartimento e la struttura commissariale quando si impegnano possono portare dei risultati e questo è oggi un risultato secondo me che dà merito ai professionisti del lavoro fatto e il giusto riconoscimento delle attività che sono emerse. Questi fondi verranno utilizzati per potenziare questo aspetto. È corretto che sia così, sono risorse che sono destinate all'assistenza domiciliare quindi è giusto utilizzarle in tal senso. Tenete anche presente che questo si andrà a unire a quello che è un progetto più ampio che sapete è sempre parte del PNRR che è la misura sulla telemedicina e queste due cose insieme dovrebbero portare davvero un grosso aiuto a una situazione anche di contesto geografico come quello in cui vive la Calabria oggi. Bella assistenza domiciliare, è un passaggio importante perché c'è tanta gente in questa regione che ha bisogno di questo. 29 milioni ottenuti dall'estate calabrese devono necessariamente essere incanalati, indirizzati in questo settore delicato dei servizi sanitari della regione. Vi do la notizia che arriva poco fa, c'è stata la riunione del Comitato delle Regioni e da questa riunione è partito un appello rivolto al Governo. Non tagliate soldi per la sanità nelle regioni perché se così dovesse essere, dice una nota del Comitato emessa al termine della riunione, ci rivolgeremo alla Corte Costituzionale. Abbiamo parlato delle buone notizie, ci sono quelle invece che riguardano le proteste relative al DCA che riguarda la rete ospedaliera. Partiamo dalla Mezzia dove c'è un Comitato, un Comitato che è sorto poco tempo fa, che vigila con attenzione su quello che accade all'interno dell'ospedale. Particolare attenzione viene prestata per esempio al reparto di psichiatria. In difesa dell'ospedale senza sé e senza mai la mission del coordinamento sanità 19 marzo che sottolinea le criticità legate al DCA sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, documento poi modificato dal commissario Occhiuto che ha ripristinato la situazione antecedente, ma sottolinea la consigliere regionale Amalia Bruni, promotrice dell'incontro, solo apparentemente. La problematica della psichiatria è ancora in atto, solamente l'unità operativa di pediatria è stata riportata come complessa e anche le strutture semplici, le strutture semplici dipartimentali non sono più presenti su questo DCA perché in realtà è l'atto aziendale quindi il commissario Battistini che se ne dovrà occupare. Comunque al di là dell'emergenza che rientra o non rientra la tematica importante è che sicuramente la numerosità delle unità operative complesse, quindi l'organizzazione di tutta la rete ospedaliera, non solo dell'ospedale di La Mezzaterma ma di tutta la Calabria è dettata sicuramente dal DM70 che regola come devono essere fatte queste unità operative complesse e soprattutto quante, ma c'è il tema di Azienda Zero che è l'azienda che racchiude più di 24 unità operative complesse e 31 semplici e che quindi pesano comunque sull'organizzazione della rete ospedaliera, quindi questo non solo per l'ospedale di La Mezzaterma ma per tutti gli ospedali della nostra regione. L'intento del comitato è far crescere il San Giovanni Paolo II che ha un bacino di 150.000 persone situato alla Mezzia, al centro della Calabria per dare risposte all'intero territorio regionale. Dalla Mezzia ci spostiamo, andiamo più a nord, andiamo ad Acri, ai piedi della Sila, dove c'è timore per quello che può accadere all'ospedale cittadino. Stamattina i sindaci del comprensorio e tantissimi cittadini hanno sfilato per le vie della città per urlare a gran voce giù le mani dal nostro ospedale. Anna Franchino. In difesa della salute contro il dimensionamento dell'ospedale da Polissena ad Acri, stesso grido d'allarme dei primi cittadini. Questa mattina hanno sfilato in corteo i cittadini del centro del Cosentino per far sentire la loro voce per garantire un diritto imprescindibile che è quello alla salute. Noi siamo comune dell'aria interna, per arrivare a Cosenza ci impieghiamo normalmente attorno ai 40 minuti, poi se durante il periodo invernale ci impieghiamo anche un'ora, la stessa cosa vale per Rossano Coriano. Non abbiamo chiesto la luna, cioè noi non abbiamo chiesto che Acri diventasse ospedale generale perché così non lo è dal 2010. Quello che noi sostanzialmente chiediamo è innanzitutto personale. Non riesco a spiegarmi perché l'ospedale di Acri come ospedale di zona disagiata sia stato quello che è sostanzialmente depauperato di posti letto rispetto ad esempio ad altri ospedali. Pino Capalbo ha fatto gli onori di casa ma al suo fianco anche i sindaci dei comuni limitrofi con loro tre generazioni dagli anziani ai bambini che chiedono che il presidio non venga depauperato. Quello che noi chiediamo è la tutela di questo diritto, il potenziamento, quantomeno diciamo lasciare invariato quello che è stato ed è l'ospedale di Acri finora perché comunque è servito tantissimo al nostro territorio e servirà sicuramente. Luzia è una realtà importante di circa 10.000 abitanti che combina con Acri e la nostra comunità utilizza spesso questo ospedale quindi noi siamo qui a difendere questa struttura e addirittura a chiedere il potenziamento quindi siamo contro questa scelta a mio avviso scelerata. Questa è la protesta di Acri e adesso vi faremo ascoltare l'appello lanciato dal dottor Raffaele Misassi, un medico ginecologo che lavora presso la struttura del Sacro Cuore di Cosenza. Ebbene nel nuovo disegno, nella nuova riorganizzazione della rete ospedaliera è previsto la chiusura di questo centro nascite. Allora il dottor Misassi fa un appello rivolto al Presidente della Regione Occhiuto. Sentitelo. La nuova riorganizzazione della rete ospedaliera calabrese prevede la chiusura del punto nascita del Sacro Cuore di Cosenza, struttura accreditata e convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale. Dai colloqui intercorsi con la Direzione Generale dell'ASP di Cosenza si erano avute rassicurazioni circa la modifica del piano riorganizzativo con la conferma del punto nascita, perché consapevole delle difficoltà che il reparto dell'annunziata vive quotidianamente. Nonostante gli sforzi fatti per cercare di far modificare il piano riorganizzativo della rete, il punto nascita del Sacro Cuore chiuderà, nonostante abbia contribuito sin dal 1958 alla crescita della popolazione cosentina e dell'intera area urbana, abbia consolidato negli anni un approccio integrato tenendo conto degli aspetti organici e psicologici dell'evento nascita con oltre mille parti l'anno, abbia contribuito a soddisfare le esigenze di gran parte delle donne rispettando il diritto sancito anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di poter scegliere il luogo dove partorire e in piena sintonia con l'ospedale cittadino. Chiediamo pertanto al Presidente Occhiuto, sempre attento ad intercettare i bisogni della popolazione calabrese, di rivedere la riorganizzazione della rete ospedaliera mantenendo aperto il punto nascita del Sacro Cuore. In favore dell'apertura del centro nascita Sacro Cuore, quindi attenzione non chiudetelo, si schiera anche il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che proprio con una nota giunta in redazione prima dell'inizio dell'edizione di questo giornale si esprime in questi termini, proprio non va chiuso, facciamo in modo che rimanga aperto un punto di riferimento, lo è stato e lo sarà sempre in quest'area della Calabria. Adesso invece la giornata particolare vissuta dalla UIL con la presenza del Segretario Nazionale Bombardieri, si è parlato dell'autonomia differenziata che spacca il Paese in due, ma è stata anche l'occasione per un cambio di consegne perché il Segretario regionale Santo Biondo lascia la Segreteria perché è chiamato a Roma, compiti importanti proprio nella Segreteria di Bombardieri. Isabella Roccano. Passaggio del testimonio alla UIL Calabria. Durante i lavori del Consiglio Confederale tenuto semmai da Comune dell'Inter in Dallamettino, Maria Elena Senese è stata eletta all'unanimità nuovo Segretario generale. Subentra a Santo Biondo che nel suo nuovo ruolo nazionale sarà al fianco del Segretario generale Pierpaolo Bombardieri. Ecco il primo messaggio lanciato dal neosegretario della UIL Calabria. Un incarico la cui responsabilità sento tutta e la responsabilità di dover rappresentare al meglio i nostri iscritti e tutte le nostre iscritte. È un momento particolare della Calabria, un momento a cui siamo abituati perché questi momenti particolari li viviamo oramai da tanto tempo. Quello che registro è la non rassegnazione da parte dei calabresi e questa cosa mi fa piacere. Biondo da ottobre parte della Segretaria nazionale indica i temi storici su cui puntare e chiedere risposte sanità, trasporti, infrastrutture, ambiente, forestazione sociale, lotta alle diseguaglianze. Sono temi antichi che devono trovare oggi delle risposte. È fondamentale l'intervento del governo nazionale, vedremo cosa farà in questa legge di bilancio. Un governo nazionale che deve certamente guardare con molta attenzione e lo sta facendo al mezzogiorno in modo particolare alla Calabria. La Calabria ha difficoltà ma anche grandi opportunità. Ci sono tante risorse che arrivano, dal piano nazionale di ripresa e resilienza, la nuova programmazione comunitaria, ci sono tutta una serie di fonti di finanziamento che vanno utilizzate al meglio. Sono diversi dunque i problemi che ancora attendono una soluzione. Continuiamo a dire che c'è un problema che riguarda il meridione, il mezzogiorno, questa terra in modo particolare. C'è un problema che riguarda le condizioni sociali dei nostri conterranei e la negazione spesso di diritti costituzionali che dovrebbero essere garantiti. Penso alla sanità, penso al lavoro, penso alla scuola. Noi continueremo a lavorare intanto con il Presidente della Regione, incalzandolo insieme alla Giunta per avere risposte. E poi ovviamente anche la presenza di Santo a Roma ci dà ancora più forza per rivendicare nei confronti del Governo nazionale risposte concrete. Proprio nel corso del suo intervento di Comiato, Santo Biondo ha detto che non abbandonano mai la Calabria, la mia attenzione sarà massima anche da Roma. Certo, è un momento delicato, complicato, difficile. L'autonomia differenziata è nel mirino di tutta la classe politica, dirigenziale, istituzionale anche di questa terra perché potrebbe rappresentare davvero una iattura tra nord e sud del Paese, una spaccatura creando, come dice qualcuno, cittadini di serie A e cittadini di serie B. Notizia così. Nel 2023 sono stati 5.000 i minori che hanno assistito purtroppo a atti di violenza. Il punto in questo servizio di Alessia Antonucci. Un nido che si trasforma in voragine, con le urla di mamme picchiate che accompagnano la discesa. Incubi vissuti quotidianamente dai minori nelle case che direttamente o indirettamente sono coinvolti negli episodi di violenza domestica o di genere sulle donne. I dati forniti dal report di Save the Children in collaborazione col servizio analisi criminale riguardo al 2023 tratteggiano un quadro preoccupante. L'anno scorso più di 5.000 minori, per lo più si tratta di bambini al di sotto dei 10 anni di età, hanno assistito ad aggressioni dentro casa. Piccoli che spesso salvano le loro madri e riescono a chiedere aiuto, come è accaduto a Reggio Calabria, dove poche settimane fa tre bambine hanno salvato la mamma dalla violenza del padre, digitando il 113 e appendendo al balcone il cartello HELP. Questi dati fanno luce su una condizione drammatica di violenza alla quale i bambini e i bambini adolescenti sono esposti nel luogo che dovrebbe essere più sicuro, quello della propria casa e della propria famiglia. Sono violenze vissute direttamente dai bambini o sono violenze alle quali loro assistono perché sono rivolte verso la loro mamma. Ma anche la violenza assistita sappiamo che ha delle conseguenze gravissime sia nel presente che nel futuro dei bambini che ne sono testimoni. Ma come arginare il problema? È fondamentale rafforzare tutte le misure di prevenzione, rafforzare le misure di intercettazione precoce dei segnali di violenza e rafforzare i sistemi di protezione nei confronti delle vittime. Adesso comincia la stagione, ai noi purtroppo, degli incendi e registreremo, speriamo di no, come al solito, il gran lavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile. Per fronteggiare questo fenomeno, proprio stamattina sono stati consegnati 18 nuovi mezzi alla protezione civile. Indirizzati proprio a questo tipo di problematica dovranno svolgere questo lavoro di controllo, di pattugliamento delle nostre meravigliose montagne per evitare che vengano così attenzionati dai piromani, da quelle persone che non hanno evidentemente niente da fare se non privare questa terra della sue bellezza naturale. Isabella Roccavo. Eccoli i 18 nuovi mezzi da impiegare nella lotta agli incendi boschivi consegnati alla protezione civile. Si tratta di pick up 4x4 che saranno assegnati alle associazioni di volontariato selezionate attraverso uno specifico bando. Mezzi più agili rispetto alle autobotti con i quali sarà dunque possibile intervenire anche nelle aree più impervi, ha spiegato Domenico Costarella, dirigente generale della protezione civile. Sono mezzi che sono prevalentemente antincendio però possono essere utilizzati anche per altre emergenze, monitoraggio del territorio, rischio idrogeologico a seconda delle esigenze perché è appunto un investimento modulare importante per tutto il territorio regionale. I pick up saranno impiegati già da quest'estate per avere un'arma in più nell'organizzazione della campagna antincendio boschivo. Nel piazzale San Francesco di Paola della cittadella di Catanzaro, la consegna formale dei 18 pick up, poi la riunione plenaria dei soggetti attuatore del piano antincendio boschivo. Aumentare il numero dei mezzi sul territorio, aumentare il numero delle squadre, avere un intervento anche più veloce con una maggiore prossimità significa fare in modo che gli incendi si propaghino con minore velocità per cui intervenire immediatamente significa poter spegnere immediatamente gli incendi e evitare danni ingenti. Questo era il servizio, stavo parlando con la mia ospite in studio, tra un attimo vi raccontiamo perché della sua presenza, è un evento molto bello ma ne parliamo tra un attimo perché adesso invece andiamo alla sede della provincia di Cosenza dove finalmente sono stati consegnati i nuovi locali, quindi una nuova caserma dei vigili del fuoco a distanza a Castrovillari. Paolo Tararico. Una caserma nuova funzionale adeguata alle esigenze di un corpo che tutela persone e territorio. Anche il distaccamento di Castrovillari dei vigili del fuoco avrà una nuova sede. Al comando provinciale di Cosenza è stato infatti presentato il progetto per quella che sarà una struttura all'avanguardia sotto ogni punto di vista, sia per quanto concerne ovviamente le norme antisismiche, sia per quanto riguarda l'impatto ambientale. Noi abbiamo due o tre caserme che risalgono agli anni 60, proprietari dell'amministrazione provinciale e come tali non sono più sufficienti a garantire i nostri standard operativi, per cui abbiamo pensato, siccome sono anti-economiche, adeguarle, per cui abbiamo pensato di fare una sede nuova rispondente ai moderni requisiti. Potete vedere lì sullo schermo un rendering di questa nuova caserma che è rispondente completamente agli standard di sicurezza ambientali ed energetici, oltre che ovviamente alle nostre esigenze operative. Una struttura che andrà incontro alle esigenze di un corpo e che rappresenta un punto di riferimento per l'intero territorio provinciale. È stata l'occasione per parlare dei progetti e soprattutto delle nuove caserme, fra cui quella di Castrovillari, che nascerà e che sarà un fiore all'occhiello proprio per le caserme dei Vigili del Fuoco, una presentazione fatta proprio dal comandante Rizzo, la presenza del perfetto Vittoria Ceramella. Un'occasione anche per salutare il comando dei Vigili del Fuoco e complimentarmi per l'ottimo lavoro che fanno sul territorio, proprio per salvaguardare quella che è l'incolumità dei tanti cittadini che si trovano sul territorio della provincia di Cosenza. Consegnato stamattina alla Cittadella il premio dedicato alla compianta Iole Santelli. C'erano le sorelle, c'era tanta gente, perché è rimasta nel cuore dei calabresi questa donna. Rosalba Baldino. A sostegno della ricerca con i fondi che permettono ai ricercatori di svolgere il loro lavoro, l'associazione Iole Santelli e la fondazione AERC insieme per la consegna della borsa di studio assegnata a Giulia Veltri, giovane ricercatrice AERC Cosentina, che svolge il suo progetto di ricerca a Padova. Si tratta di un nuovo approccio per piccoli pazienti affetti da leucemia a linfoblastica acuta a celluletti che non rispondono alle terapie convenzionali. Questo premio è particolarmente importante perché l'associazione Santelli ha scelto fondazione AERC per cofinanziare questa borsa di studio dedicata ad una giovane ricercatrice calabrese. Ed è molto importante perché si è affidata al sistema di pay review di AERC che è assolutamente meritocratico. Quindi per noi questo è veramente motivo di orgoglio. Credo che questo premio abbia veramente interpreti pienamente il sogno di Iole, quello di sostenere i calabresi. Nella conferenza stampa a Catanzaro nei locali della cittadella l'emozione nel ricordare la prima donna presidente della regione Calabria scomparsa nel 2020. Le sorelle Paola e Roberta con l'associazione intitolata Aiole Santelli ne portano avanti progetti e valori. partecipare anche in una piccolissima infinitesima parte alla ricerca sul cancro ci dà una grande soddisfazione. Proprio oggi io credo che sia giusto ricordare tutte le persone che con forza e dignità affrontano questa battaglia un pensiero, consentitemelo, Vaiole che ha lottato forse la battaglia più importante della sua vita con grande resilienza e con grande dignità. Diamo onore al merito a questa giovane donna che speriamo poi, una volta fatta esperienza fuori, riesca a tornare nella sua terra d'origine. Abbiamo ospite in studio la delegata provinciale del CONI, Francesca Stancati. Grazie per essere qui. Presentiamo un evento straordinario per la città di Cosenza. Esatto, è davvero straordinario avere la nazionale maggiore femminile, è un evento incredibile. Che non gioca una partita amichevole, ma è una gara che vale tanto. Già avere la nazionale per noi è un prestigio, avere la nazionale che gioca la prima partita probabilmente, speriamo di no per noi, la più difficile, visto il blasone delle avversarie, che gioca appunto questa prima partita della qualificazione ad Euro 20-25, per noi è una grandissima cosa. Speriamo ci sia una grande affluenza di pubblico, perché merita la nazionale femminile. Ormai è esplosa questa, come dire, questa passione per queste ragazze straordinarie che hanno regalato anche momenti esaltanti al calcio femminile. Senz'altro, visti già dai mondiali del 2019 è partita un'onda azzurra che ha travolto un pochino tutti quanti. Nessuno di noi si aspettava, nessuno di noi addetti ai lavori si aspettava questa partecipazione rispetto alla nazionale femminile, ma noi siamo sicuri che anche Cosenza, la Calabria, la nostra provincia possa accogliere in maniera calorosa le azzurre e sostenerla in questa partita contro i Paesi Bassi. L'appuntamento domani alle 18, stadio San Vito Marulla. L'appuntamento è alle 18.15, stadio San Vito Gigi Marulla. Siamo certi che, come dicevo prima, accorreranno numerosi. Possibile, se mi consenti di aggiungere, acquistare i biglietti su Viva Ticket oppure domani sarà anche aperto il botteghino sin dalle 15.30. Come avete fatto all'ospitale nazionale qui? Ci vuole un po' di lavoro per dare credibilità alla possibilità di ospitare. Il lavoro è iniziato lo scorso anno, quando siamo riusciti con il Presidente Saverio Mirarchi a portare qui il round 1 di qualificazione agli europei della nazionale del 17 femminile. Lì c'è stato un grande lavoro perché erano quattro nazionali che si sono fermate dieci giorni qui a Cosenza ed evidentemente quel lavoro è stato apprezzato in federazione. Quando si è pensato di destinare una partita al sud si è pensato a Cosenza, con nostro orgoglio. Complimenti, grazie per averci offerto questo spettacolo straordinario, dal calcio femminile gioia, spumeggiante, pieno di attenzioni e di aspettative, al calcio maschile, quello di Serie B, il Catanzaro che si gode una posizione di classifica invidiabile, il Cosenza che dopo una settimana tumultuosa seguita la sconfitta in casa con il Brescia e con la decisione assunta dalla società di mandare la squadra in ritiro, si gioca una fetta di permanenza in Serie B nella gara di sabato prossimo a Piacenza. Ma Anna Franchino ha fatto il punto della situazione che noi vediamo. Sabato si torna in campo, il Cosenza giocherà a Piacenza contro la Feralpi Salome, mentre il Catanzaro ospiterà il Como. Due partite con due obiettivi diametralmente opposti. Silani si gioca in una fetta importante della torta a permanenza in Serie B. I giallorossi puntano al secondo posto, che vuol dire promozione diretta in Serie A. È stata una settimana assai turbolenta per il Rosso Blu, che dopo la sconfitta subita in casa per opera del Brescia e il ritiro deciso dalla società, sono chiamati a una prova d'orgoglio. I giorni trascorsi insieme in un albergo di Rende sono serviti a ricompattare, almeno così si agonano i tifosi il gruppo, nel quale evidentemente qualcosa non ha funzionato in quest'ultimo periodo. Il nuovo tecnico Viali ha avuto il suo bel da fare nell'amalgamare anime e caratteri diversi e convogliare la compagine verso il raggiungimento dell'obiettivo salvezza. E dire che questa squadra è stata costruita per il perseguimento di altre mete, ma evidentemente le turbulenze che l'hanno attraversata hanno contribuito a rendere difficile orientare il pensiero verso traguardi ambiziosi. In buona sostanza è l'ennesimo anno nel quale il Cosenza si ritrova a percorrere la stessa strada generando ansia e preoccupazione tra i tifosi. Ambiente totalmente diverso a Catanzaro dove si sogna in grande. La vittoria è ottenuta lunedì in casa della capolista, ancora di più reso elettrizzante il clima. L'obiettivo promozioni diretta può non essere un sogno. A Catanzaro i tifosi ci credono, così come la società e l'ambiente. Sabato arriva il Como, gara affascinante tra due squadre in ottima salute. Il nostro giornale si ferma qui. Vi lascio adesso a diritti negati. La nostra piattaforma messaggistica è già pronta a ricevere i vostri messaggi. C'è anche la diretta telefonica per parlare con i nostri ospiti. Il giornale torna più tardi. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito. In tema di politica monetaria in Europa prevale l'aspettativa che la BCE avvierà l'alentamento della politica monetaria al 6 giugno e taglierà i tassi altre tre volte entro la fine dell'anno. Dall'agenda macro nell'Eurozona a febbraio i prezzi alla produzione sono calati su base mensile dell'1% e dell'8,3% anno su anno. Nella stessa area, a marzo, il PMI Servizi finale si è attestato a 51,5 punti, mentre il Composito a 50,3 punti. Nello stesso mese, in Italia, il PMI Servizi è salito a 54,6 punti e il PMI Composito si è attestato a 53,5 punti. Sul Forex l'eurodollaro risale a 1,086, mentre il cambio tra biglietto verde e yen uscilla a 151,7. Petrole è ancora flat con il Brent a 89,3 dollari e il VTI a 85,4 dollari dopo che l'OPEC Plus ha confermato i piani restrittivi dell'offerta di greggio. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund cala a 142 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,80%. Tornando a Piazza Affari sale in testa Azimut più 1,7, seguita da Poste Italiane più 1,6 ed ERA più 1,2%. In coda Saip e Metere com Italia meno 1,6, Cucinelle e Banca Popolare di Sondrio meno 1,5%. Grazie e al prossimo aggiornamento!